I finanzieri della stazione navale della Guardia di Finanza di Pescara, in due distinte operazioni, hanno dapprima individuato e poi sequestrato circa 3.000 metri di reti da pesca prive di segnalazioni e poste in zone vietate. Le operazioni si sono svolte a Francavilla al Mare e a San Vito Chietino. Nel primo caso, a Francavilla al Mare, le fiamme gialle hanno scoperto una rete da pesca non a norma per posizionamento e segnalazione. Gli operatori subacquei del nucleo Sommozzatori hanno effettuato un'immersione ricognitiva con il recupero e sequestro di oltre 2.500 metri di reti utilizzate per la pesca di frodo, posizionate a poco più di un metro di profondità. Una parte della rete era posizionata all'interno delle scogliere frangiflutti, pericolosa sia per i subacquei che per i praticanti sport acquatici. A distanza di pochi giorni, a seguito della segnalazione giunta al 117 da un cittadino, i militari hanno svolto indagini a San Vito Chietino con ispezioni subacquee e ricognizioni costiere, grazie all'utilizzo di mezzi navali e appostamenti via terra. Il tutto per individuare posizioni di reti e modus operandi di un soggetto che da tempo era dedito alla pesca di frodo. A pochi metri dalla costa, i militari hanno fermato un pescatore con reti prive di ogni segnalazione e abilmenti occultate lunghe oltre 500 metri. Sequestrate le reti, l'uomo è stato multato di 2.000 euro con la decurtazione di 7 punti dalla licenza di pesca come da normativa vigente. Tutto il prodotto ittico sequestrato nelle varie operazioni è stato donato in beneficenza ad enti caritatevoli di Pescara. La Guardia di Finanza tende a garantire da un lato la tutela del territorio e delle risorse, dall'altro impedire che la scorrettezza di qualcuno possa arrecare indirettamente un danno a coloro che rispettano le regole.